Chi oggi si occupa di turismo a Barletta non può certamente ignorare l'eredità lasciata da Vittorio Palumbieri, ex direttore dell'azienda autonoma di soggiorno e turismo per tanti anni figura di primo piano del panorama culturale cittadino. A due anni dalla sua scomparsa un incontro organizzato presso la Sala Rossa del Castello ne ricorda le molteplici iniziative dalla promozione della disfida di Barletta alla valorizzazione della Pinacoteca dei Nittis, un'attività durata oltre 30 anni come riportato dal suo libro pubblicato postumo intitolato Di Canne e altre storie. Ricorda Canne della Battaglia, ricorda il castello, i restauri del castello, le estate barlettane, ricorda la disfida di Barletta e quindi dal 1966 in poi quando sono state realizzate diverse manifestazioni, diversi certami che si sono assecondati c'era sempre Vittorio. Denittis, Palazzo della Marra, il ricordo di Denittis, lui ha invitato a venire a Barletta con il giro di Micoli, il presidente del Consiglio che ci ha onorato della sua visita, cioè Emilio Colombo nel 1971 per presentare le opere, il primo catalogo delle opere di Denittis. Che eredità ci lascia Palombieri? Che eredità ci lascia? Una grossa eredità. Oggi noi avremmo veramente bisogno di un altro Vittorio Palombieri perché l'amministrazione comunale non sempre ce la fa a seguire tutte queste complesse problematiche e sono particolarmente attuali in momenti conginturali come quelli che stiamo vivendo. Vittorio Palombieri ha aiutato moltissimo la pubblica amministrazione nel percorso della valorizzazione di quelli che sono stati i momenti più significativi, più rappresentativi della nostra cultura in chiave di investimento turistico. Palombieri, anche se lucano d'origine, era molto legato alla città di Barletta e al suo patrimonio storico e culturale che ha sempre cercato di valorizzare. C'era spesso però anche un rapporto difficile perché voleva vedere questa città sempre più bella, più... non lo so, non lo so, pur non essendo un barlettano perché lui era, si vantava di essere un lucano. Un ringraziamento particolarissimo all'amministrazione comunale che mi ha dato la possibilità di poter incontrare tutte queste persone in un luogo che era tanto caro a Vittorio. Vittorio che per me, al di là del professionista o del lavoratore del turismo, era mio merito. Uno degli amici storici di Palombieri è stato il giornalista Osvaldo Bevilacqua, a legarli profondamente l'amore per i viaggi e per la cultura. Come è nato il suo rapporto di amicizia con Palombieri? Grazie al turismo, mi sono sempre occupato di turismo e con Vittorio ci eravamo incontrati su tanti fronti, eravamo d'accordo su tante cose, poi ci volevamo bene, anche se io poi per un periodo e lui per un altro ha cominciato a viaggiare, io in giro per il mondo e ci siamo un po' persi di vista, ci scrivevamo, ci telefonavamo, non c'erano ancora le mail e cominciavano i primi fax, però è stato un periodo molto bello.